Ci potrebbero essere queste fiamme alte qualche metro e con origine nel cuore delle campagne alla radice degli odori nauseabondi che da qualche giorno puntuali come una tassa da scontare sulla pelle nei polmoni dei cittadini invadono Andria. Siamo in via Biceglie a circa 4 chilometri dal centro abitato di Andria. Ogni pomeriggio all'imbrunire da diversi giorni questa è la scena che si ripete. Le conseguenze sono vive nelle narici di tutti coloro che abitano o lavorano nelle vicinanze. L'acriodore di plastica bruciata si avverte distintamente nell'abitato della città federiciana. Una situazione sotto gli occhi di tutti, denunciata a più riprese dai cittadini sui social e in attesa di soluzione. Non è certo che l'unica causa dei disagi olfattivi che potrebbero diventare anche fisici per chi inala aria inquinata, siano in quei fumi nelle campagne tra Biceglie e Andria. Non volendo fare osservazioni azzardate ci chiediamo comunque chi stia bruciando cosa, in attesa che le denunce arrivino anche alle forze dell'ordine e che sulla vicenda venga fatta luce.